Ultime battute di questa campagna elettorale di Casamicciola con la lista Ricostruiamo Casamicciola. Una parte dei candidati col candidato sindaco Caterina Iacono in piazza qui a Perrone. Una campagna elettorale giocata da questa formazione, soprattutto tra la gente per le strade e per le piazze per raccontare i progetti di che razza di Casamicciola pensano di poter ideare e costruire dopo questa campagna elettorale. Allora, rapidissimamente, Maria Venente, una campagna elettorale molto interessante nella quale bisognerà poi tradurre nei fatti dopo le chiacchiere. Certamente, si fanno solo chiacchiere da tanti tanti anni, fanno di qua, fanno di là, non abbiamo dei volatori, non abbiamo niente, non abbiamo più turismo, non abbiamo più niente, stiamo affondando. È inutile fare tante parole, promesse, perché le promesse già sono state fatte dai soliti. Siccome noi non siamo i soliti, vorremmo veramente cambiare le sorti del nostro paese, e ci siamo presentati proprio per cercare una svolta, perché la svolta non c'è, è da sempre che così, è sempre così. Spero non rimarrà. Vi ringrazio, spero che ci votiate. Caterina Iacono, prima della lista. Poi spero che votate anche a me, grazie. Gennaro Mantera, cosa aggiungere rispetto alle tante cose dette? Io approvo tutto quello che dice il mio amico Mario, perché essendo che sto nella nautica di Portistica e giro tutte le isole del Mediterraneo, ho girato, e noto sempre che qua siamo sempre peggio. Allora la svolta è solo avere una svolta politica molto più solida e unita, per dare un appoggio e dare delle idee nuove a Casa Micciola. Perciò il 14 e il 15, votate Caterina Iacono. Restituto De Luise, abbiamo sempre parlato delle donne anche in questa campagna elettorale, quindi il ruolo particolarmente importante per una donna, un candidato sindaco, ma anche un candidato consigliere, che può essere il valore aggiunto per una politica che vuole vedere la rinascita di un paese. Buonasera, io sono restituta De Luise, faccio la postina, mi sono candidata in questa lista di Costriamo Casa Micciola per la stima che ho per Caterina Iacono, perché non l'avrei mai fatto, perché io non credo in quella che è la politica, almeno di quella che si è fatta fino adesso. L'ho fatto soltanto perché conosco Caterina e quindi so come la pensa, sono la persona umile che è, una persona intellettuale, preparata, che non si siede per fare compromessi, ma bensì per agire e questa situazione mi è molto piaciuta, diciamo, e quindi io l'ho affiancata, l'affiancherò sempre, anche se noi perdiamo, perché purtroppo la gente va per le promesse, cioè la politica già sappiamo quella che è, perché non è che possiamo cambiare le persone o comunque diciamo sappiamo i soliti soggetti che agiscono nella stessa maniera, ma non soltanto a casa micciola, penso su tutta l'isola, sono sempre gli stessi, è un rimpastone, allora una volta lo chiamiamo ciambellone, un'altra volta lo chiamiamo pastiera, però gli ingredienti sono sempre gli stessi. Questo è una cosa schifosa perché l'isola per noi è importante, io mi sento cittadino dell'isola, non mi sento di Lacameno o di casa micciola. Il problema è grave e diciamo coinvolge tutta l'isola perché se questa volta abbiamo fatto 12 morti e noi diciamo dovremo avere rispetto per queste famiglie, per tutto quello che è successo, la prossima volta sarà un'ecatombe perché il geologo che è come il cardiologo della montagna ha spiegato bene la situazione, soltanto che a noi interessano soltanto fare a loro diciamo in genere i politici isolani che poi si dovevano comunque raggruppare tutti perché non era un problema solo di casa micciola o che è stato presente soltanto l'altro sindaco, l'altro sindaco ancora, bensì era un problema di tutta l'isola perché il turista che arriva può venire a casa micciola come può diciamo soggiornare a Sant'Angelo, però comunque è un'immagine che va messa in evidenza in quanto diciamo se c'è una defaianza su una parte di un'isola, riflette di un comune, riflette anche sull'altra zona dell'isola. Quindi diciamo i politici tutti avrebbero dovuto essere più coesi, prendere atto di questa situazione che è avvenuta, che non c'è un piano diciamo di tutti che hanno fatto qualcosa per far sì che questa situazione non avvenga. Io spero che con Caterina Iacono il nostro progetto iniziare proprio da una cosa serissima, la messa in sicurezza del territorio, dopo va tutto diciamo dopo, però se non c'è sicurezza del territorio non c'è futuro né per quelli di casa micciola né per l'isola e per le nuove generazioni che verranno. Quindi bisogna tutelare l'isola per i ragazzi perché noi sinceramente abbiamo fatto già mezzo secolo, l'abbiamo già vissuto, ma che cosa lasciamo a quelli che vengono dopo? Questa è una vera e pura vergogna. Io abbai passerei per un attimo Caterina perché intanto dobbiamo continuare a parlare con Filippo Florio della montagna, abbiamo visto come c'è l'appello a voler guardare alla messa in sicurezza del nostro territorio e solo chi pratica il terreno, chi pratica la montagna con la passione ma anche con la professione ci può dare un occhio, una mano per capire come la montagna va difesa e poi essere veramente una risorsa e non, come la guardiamo noi adesso, come una cosa che ci fa paura praticamente. Allora la montagna non è che fa paura, fa paura per l'incuria, per l'incapacità di chi ci amministra, di chi continua ad avere dal popolo il mandato. Il mandato comunque è irrisorio perché oggi io non credo che i casamicciolesi siano così vogliosi di votare per queste persone. Io credo che purtroppo per il nostro demerito sicuramente noi non abbiamo convinto chi voleva veramente cambiare perché sicuramente vincerà l'astenzionismo e sarà anche forte. Per ritornare al tema della domanda, i paesi come Rimini, che sono paesi fondamentalmente lagunari, sono zone, nei loro alberghi dicono noi abbiamo, i nostri mobili sono fatti con legno biologico, noi ce l'abbiamo sopra di noi, questo legno decade, va a finire nei burroni perché purtroppo il bosco seduo è nato per essere tagliato, quindi dopo massimo 8-9 anni va tagliato, se non lo tagliamo il suo peso diventa enorme e la sua radice non riesce a contenerlo e quindi va a finire nei burroni, ostruisce, crea altri problemi e quindi si amplificano i danni che possono avvenire. Il problema è tornare all'agricoltura, ma all'agricoltura sostenibile, un'agricoltura che per fare questo dobbiamo fare sia i piani di insediamento produttivo, sia i disciplinari dei co-denominazione comunale dei prodotti, grazie a queste cose noi incentiviamo chi ha voglia di lavorare, di coltivare e diamo a queste persone la possibilità di avere un reddito, un reddito serio. È importante parlare e poi lo rifaremo questo ragionamento anche a bocce firme, va a Fredo Saccone, allora una campagna elettorale importante, dicevo giocata e fatta nelle piazze, avete incontrato le persone, quindi avete anche potuto vedere quanto la gente ha bisogno di confrontarsi e ha bisogno di avere una politica seria che rispetti i cittadini e rispetti anche il territorio e l'ambiente. Allora innanzitutto voglio salutare i telespettatori che in questo istante ci stanno guardando con un semplice motto, o si cambia o tutto si ripete. Perché dico questo? È inutile raccontare e dire sempre le stesse cose perché poc'anzi hanno parlato i miei colleghi, insomma i colleghi che stanno con me, che stiamo insieme attraversando questa campagna elettorale anche abbastanza pesante, ma pesante relativamente perché comunque noi abbiamo avuto le risposte e siamo stati vicino ai cittadini e i cittadini ci hanno raccontato chiaramente le problematiche che ci sono su questo territorio. Certamente non c'era neanche bisogno che ce lo raccontassero loro perché comunque sappiamo quello che è successo, io non voglio essere ripetitivo perché appunto come dicevo prima noi ci siamo, quello che vi chiedo, quello che chiedo a voi cittadini di Casamicciola guardate l'astenzionismo è un qualcosa di tragico, allora quello che vi chiedo, quello stessa trappola di sempre, quello che vi dico non rimanete a casa, il 14 e il 15 le urne sono aperte per cambiare il destino di Casamicciola, quindi vi raccomando non ci abbandonate perché noi ci siamo. Caterina Iacono, ultimissime battute di questa campagna elettorale, ci ritroviamo ancora una volta in piazza ad incontrare i cittadini, così avete portato avanti la vostra campagna elettorale confrontando, ascoltando, annotando anche le altre riflessioni che vi sono giunte dai cittadini in modo da farne tesoro per quello che sarà poi l'immediato futuro. Allora ho sentito che c'è molta, come dire, intenzione di voler puntare soprattutto sugli indecisi e su quelli che possono essere già convinti di non dover andare a votare. Incominciamo già da qui a voler convincere la gente a riappropriarsi del piacere e del potere di essere cittadini elettori. Per quanto riguarda invece questi umori delle piazze e della gente che abbiamo visitato e a chi abbiamo incontrato in questi giorni abbiamo avuto modo di capire che effettivamente esiste una buona parte di elettorato che sinceramente, e io userei dire, legittimamente sono stanchi di avere sempre promesse a vuoto e di girare con i problemi, con i criceti sulla ruota da gioco e nella gabbietta. Quindi sono veramente stanchi e c'è questa buona parte di elettorato che ormai non ha più voglia di andare alle urne. Il mio invito è proprio a questi qui, a queste persone che non hanno, come ho sempre detto, che non hanno assolutamente più voglia di andare a votare e di essere maggiormente responsabili. Cittadini, oggi di Casa Micciola, oggi un'alternativa l'avete. Noi siamo tutti cittadini di Casa Micciola, tutti persone, io in particolare come voi sono terremotata e sento particolarmente a cuore le vicende di tutti gli amici alluvionati e terremotati perché io non sono su un piedistallo, io sono come voi per strada e ho veramente la contezza di quello che state provando. A parte, io esprimo ancora una volta, la mia vicinanza è quella della mia squadra elettorale per tutti coloro che hanno perso tante persone vittime delle due calamità. Però, oggi come oggi, voi avete un'alternativa. L'alternativa siamo noi, siamo cittadini per i cittadini, non siamo stati mai imbischiati con la vecchia politica che ha tradito il Paese. Noi vediamo Casa Micciola che ormai è un cumulo di macerie ancora prima di queste due elementi calamitosi. Proprio oggi a Medeo io ho incontrato la Federa Alberghi, è stato un incontro tristissimo con i miei amici albergatori e tu mi dirai perché. Perché queste persone sono persone che oggi, pochissimi di loro, hanno aperto gli alberghi. Abbiamo più della metà degli alberghi di Casa Micciola che quest'anno non apriranno e quei pochi che apriranno sono completamente abbandonati a se stessi perché la politica del passato, addirittura l'ente del turismo di Casa Micciola si deve addirittura autofinanziare la carta e non hanno le mappe, le cartine. Il comune non gli fornisce nemmeno le cartine che i turisti vengono per vedere. Questa è la nostra politica. Così hanno a cuore il turismo, così hanno a cuore la promozione da questo piccolo esempio che ho fatto, si può capire come viene gestita. Sono inascoltati, hanno voluto e hanno cercato nel tempo dei tavoli con il comune per poter esprimere le loro dimostranze e anche per organizzare come fanno i nostri vicini, come fanno tutto il mondo, le località turistiche balneari, una promozione a livello internazionale che parte dall'ente comune, ma non hanno fatto niente di tutto questo. Il nostro impegno è proprio questo, partire dalle piccole cose come il centro del turista e poi andare alle grandi cose, come diceva la mia amica Titti De Luise, perché ovviamente la messa in sicurezza del territorio è una priorità con tutti i piani e i progetti che l'amico Florio praticamente ha messo, adesso ha illustrato e come vedi noi siamo una squadra eterogenea e possiamo veramente rappresentare un'alternativa valida a quest'andazzo paludoso fino ad esso esistito.